Sì esatto, ieri sera abbiamo approvato il bilancio previsionale per l'anno 2019 e per la prima volta il Comune riesce ad approvare il bilancio entro la fine dell'anno precedente, entro dicembre del 2018 a differenza degli anni passati dove anche il previsionale veniva approvato sempre in primavera inoltrata. Questo permette, darà la possibilità agli uffici comunali di lavorare da subito, sin da subito con una programmazione definita e quindi mettendo tutti nelle migliori condizioni di portare avanti quello che abbiamo previsto appunto nel bilancio. È un bilancio che ormai supera i 100 milioni di euro tra spese correnti e investimenti grazie anche all'ottimo lavoro fatto dall'Ufficio Europa che in questi anni sta portando risorse importanti sia dalla comunità europea che dalla regione. Sottolineo in particolar modo gli importanti investimenti in opere pubbliche che il Comune continua a fare a partire dalla riqualificazione del centro urbano, la riqualificazione del Lido, la nuova scuola di Cucurano Carrara e i tanti soldi investiti in riqualificazione degli impianti sportivi. Oltre chiaramente poi alla nuova piscina che è un capitolo a parte che riguarda anche la fondazione Carifano. Un altro aspetto molto rilevante sono le manifestazioni e quindi il turismo. Confermiamo tutte le manifestazioni dello scorso anno a partire dal Carnevale che sarà il primo evento insomma nel mese di febbraio e poi via via nel corso dell'anno, nell'estate, passaggi festival, il festival del Brodetto e soprattutto la Fanno dei Ciesi. Infine il decoro urbano, voglio sottolineare anche questo aspetto, 300 mila euro in più messi a bilancio per il decoro urbano e per curare meglio il verde pubblico soprattutto nella zona centro mare che riqualificherà ovviamente la città perché Fanno è una bella città insomma piena anche di turisti soprattutto in estate. Quindi insomma un ottimo lavoro fatto dagli uffici, un ottimo lavoro fatto dalla Giunta e finalmente ecco si parte dal primo gennaio con i conti in ordine e il bilancio a posto. Quindi insomma auguriamoci che sia un bel 2019.